Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Novena al Beato Carlo Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acutis durante i suoi quindici anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato Angelo della gioventù concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Buongiorno, chiedi continuamente aiuto al tuo Angelo Custode che deve diventare il tuo migliore amico. Beato Carlo Acutis, che hai cercato già in questo mondo la compagnia dei Santi Angeli, dammi la grazia di vivere rettamente come lo vuole il mio Angelo Custode. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male è il tuo regno, che sia fatta la tua vita e lui i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti come e lui è entrambi. fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o dio nostro padre grazie per averci dato carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio gesù facendo dell'eucaristia la sua autostrada per il cielo tu gli hai dato maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza accogli la sua preghiera per noi guarda soprattutto ai poveri che egli amato e soccorso anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia ponendo carlo tra i santi della tua chiesa perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome amen